Siamo con il portiere del Casapesena, davvero comunque una partita molto interessante sotto l'aspetto tecnico al di là del risultato. Sì, sì, è stata una bella partita, stavamo vincendo fino agli ultimi 5 minuti, poi ci hanno pareggiato per un mio errore, poi dopo Conatea ha fatto quello che doveva. Ecco, secondo le previsioni meteorologiche giustamente poteva essere anche una partita non giocata bene, Bela invece alla fine lo è stata insomma, vero? Sì, è stata pure la prima partita, la prima vittoria sul nostro campo qui a Casapesena e ne siamo molto felici. Mister, davvero una bella partita nonostante il clima meteo inclemente. Sì, purtroppo questo campo ci penalizza perché oggi credo che eravamo più forti tecnicamente, però il risultato è poi alla fine ci ha dato ragione, queste partite si vincono anche così e quindi va bene questa vittoria in casa. Ecco, lei ha impassato la partita in modo diverso, in due condizioni diverse, secondo tempo diverso rispetto al primo, vero? No, poi è normale, questo è un campo che così bagnato ci sono tutte seconde palle, normale che poi mentalmente la squadra si abbassa un po', però alla fine l'abbiamo portata a casa, quindi va bene così. Secondo lei qual è il futuro dei prossimi mesi, delle prossime settimane? Credo che attualmente siamo terzi in classifica se non sbaglio, crediamo nei play-off e quindi stiamo lottando per i play-off. Napolitano, ecco, autore del primo gol, che emozione ha provato in quel momento? Ho provato una bellissima emozione, fare il primo gol sul nostro campo di Casabesena e sono più felice per la vittoria che per i play-off. Ecco, veramente quest'anno, come ho notato, la squadra è molto seguita dai diffusi anche molto giovani, vero? Sì. Quindi il Casabesena merita altri palcoscenti. Sì, merita tanto perché sono dei ragazzi che ci seguono dappertutto, fanno sacrifici per noi e noi cerchiamo di fare tutto per i pagati. Grazie. Pure se buona. Biffaro, grande partita alla sua, soprattutto nel primo tempo, l'hai giocato molto, è stato molto dinamico. Sì. E' soddisfatto di questo risultato? Soddisfattissimo. Grande risultato, una grande partita di squadra, contava il risultato, anche se nell'ultimo stavamo per rovinare tutto, però alla fine ci abbiamo messo forse qualcosa in più e è andata bene così. Biffaro!